Classe 1954 di San Severino Marche, un entusiasmo di un ragazzino. Stiamo parlando di Fabrizio Castori, l'allenatore del momento, creatore del miracoloso Carpi, che sta stravincendo il campionato di Serie B. L'ex tecnico del Cesene è stato ospite all'Associazione Italiana Allenatori della sezione di Mantova per una lezione ai tecnici virgiliani al Coparc di Bagnolo San Vito, per l'occasione numerosissimi con la presenza dell'allenatore del Mantova, Ivan Juric. È una squadra di giovani che secondo me si stanno, non voglio usare il termine esplodere perché rischio di essere esagerato, però di sicuro stanno emergendo, mi auguro che continuino su questa strada e vedremo come andrà a finire questo campionato. Allora io sono legato a Mantova, una giornata particolare che rappresenta il mio ritorno in Pachina a Cesena quando avevo scontato due anni di squalifica, è una serata memorabile che affrontammo il Mantova di Di Carlo, vincevamo noi 2 a 0, ma fu una serata per me di un'emozione unica. E quindi, anche se poi quella natalizia per noi che per il Mantova finì, diciamo male, e sorvolo sul come finì, perché ce lo ricordiamo tutti. Quindi ecco, sono legato da questa sorta di affetto a Mantova. Dopo un'ora di full immersion a parlare di pressing e di 4-3-3, Mister Castola salutato il suo ex giocatore Cristian Baglieri quando militava nel Castello di Sangro, sottolineando quanto siano importanti i giovani per creare una squadra come il Carpi di oggi. Una soddisfazione per Saggio Fincati, presidente dell'IAC di Mantova, il quale ha già in cantiere altri incontri con tecnici di Serie A e B.